Grazie a tutti. Grazie a tutti, vi voglio bene a tutti. Buon San Valentino, viva l'amor. Oggi dai, continuiamo a parlare sempre molto seriamente dei fabbisogni formativi, ma non dimentichiamo gli innamorati, chi si vuole bene, insomma un po' di amore per tutti visto quello che sta succedendo nel mondo. Abbiamo parlato nella scorsa puntata dell'importanza dell'analisi, di una corretta analisi dei fabbisogni formativi aziendali. Quindi a suo dato che è importantissima questa fase dobbiamo spiegare quanto sia importante anche l'aggiornamento, perché tanti insomma fanno il corso di formazione e poi si dimenticano un po'. Perché oltre ovviamente alla formazione iniziale è necessario aggiornarsi periodicamente con scadenze che adesso andremo a vedere in materia di sicurezza sul lavoro, insomma penso che sia un tema molto importante. Sì, perché si parla di prevenzione, si parla anche di conoscenza, di nuovi rischi, si parla anche di evitare le malattie professionali, quindi sempre di più si allarga la vita del lavoratore e sempre di più ovviamente il lavoratore deve avere una specie di autocontrollo. Come lo fa senza informazione e senza formazione? È difficile, nessuno nasce imparato, perciò l'unica cosa è per aumentare il talento, dicevamo l'altro giorno, oggi che conosciamo è la formazione. Aumentare il talento, aumentare la prevenzione e programi di formazione e tenere sotto controllo l'escadenza di questa formazione. Perché se deve fare aggiornamento? Pues te lo dico per esperienza, perché ogni volta che va di una hacienda a fare formazione, aggiornamento del laboratorio, le faccio delle domande sul contenuto del decreto legislativo tantuno, che è il nostro testo unico di legge, in materia di salute e sicurezza, subito e di lavoro, e sempre devo ripetere la maggior parte le stesse cose. Non tutte le persone sono uguali, eh? Mi sognia sempre, sottolinea che ci sono persone bravissime, che rimangono e che mi fanno fare anche una bellissima figura in la tienda, rispondendo bene alle domande che le faccio, ma non è la tonica, non è la cosa che capita sempre. Perciò insistere, motivare, motivare alle persone a mettere in piedi un autocontrollo. E ovviamente vedrete come l'aggiornamento in materia di sicurezza insiste sull'aggiornamento dei cosiddetti preposti, quindi il capo di una sezione, il capo di un'area di servizio dell'azienda, di un turno di lavoro. Queste persone devono essere superformate, superinformate e devono servire di esempio al resto dei laboratori. Per cui il preposto ha un obbligo di aggiornamento biennale. Poi, quali sono importanti? Sempre parlando della vita delle persone, gli addetti al primo soccorso che devono fare un aggiornamento triennale. Quindi se io ho fatto un corso di primo soccorso, fate particolare attenzione, gli addetti al primo soccorso in azienda, quando esca di questo corso di formazione. Che se mi scade questo corso di formazione? E l'accordo è stato regione, non deroga, quindi è esigibile, se tu lo devi fare da capo. Perciò, attenzione a mantenere sempre il retraining, gli aggiornamenti su questi corsi. Per passare quinquenale, la formazione generica di tutti i laboratori, la memorizzazione, il ricordo. Io preferisco fare un paio d'ore all'anno, quando sono il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, perché ogni cinque anni è troppo tempo per aggiornare. Però mi dicono, ogni cinque anni devi dimostrare che hai fatto almeno sei ore di formazione. Bene, facciamo un paio d'ore di formazione. Innanzitutto nelle piccole aziende, dove non si fa una, obbligatoriamente, una riunione formale per la gestione della sicurezza. Quindi non vedono espeso insieme al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente e rappresentante dei laboratori per la sicurezza. Quindi in queste piccole aziende si dovrei fare un esforzino, perché la RSPP visitase ai laboratori almeno una volta all'anno, un paio d'ore, un'ora e mezza, un paio d'ore, per parlare di sicurezza sui loghi di lavoro, per parlare di come vanno le cose, se hanno avuto qualche nearmis, quasi infortunio, oppure no, stanno andando bene le cose perché hanno un comportamento buono, le persone, positivo. E fomentare innanzitutto le buone relazioni per prevenire stati psicosomatici, quindi la trasformazione di un pensiero negativo in un stato psicosomatico. La maggior parte dei nostri piccoli disturbi partono da qui, dalla psiche. Perciò allenatevi anche a avere bene il cervello, il pensiero, sorridete sempre, non vi costa niente, il sorriso vi va a aprire, anche la cassa toracica, quindi aiuta anche il respiro, contrariamente a quelle persone che stanno sempre... Aiuta a ossigenare i muscoli, insomma, aiuta per tutto, potremmo dire anche alla pelle, per le donne, ma in realtà è molto importante quello che dice, quello che, diciamo, da un po' di tempo a questa parte, in trasmissione, anche tenere buoni rapporti sul luogo di lavoro previene alcuni fastidi che poi potrebbero trasformarsi in vere e proprie patologie, anche stress e lavoro correlate, quindi, insomma, è importante, anche Marisa sottolinea sempre questo aspetto, che per quanto non faccia riferimento a nessuna legge, ecco, nessuna normativa, però è molto importante in azienda. Ti faccio una domanda un po' così, ti stuzzico un attimo, bisogna fare formazione, bisogna fare l'aggiornamento, bisogna fare l'aggiornamento, eh sì, però, eh, però dai, mamma mia, tutte quelle ore in classe, eh, devo lavorare, c'ho da fare... Come si fa a rendere questa formazione, questo aggiornamento, perché poi sappiamo che l'aggiornamento è già di per sé un po' più snello, ma come si rende meno pesante per, no, per i dipendenti, per coloro che devono seguire questi corsi? E tu ce lo spiegherai, oltre, ovviamente, ad affrontare il corso con il sorriso. Guarda, due cose sono fondamentali, rendere la formazione, uno interessante, che apporte delle cose nuove e non ripetere sempre le stesse cose, e la seconda, motivazionale, interessante e motivazionale. Le persone devono ricordare sempre che stanno lavorando per la società. Sì, sicuramente per avere alla fine del mese un stipendio, ma si devono sentire utili, e per sentirsi utili bisogna ricordarle quanto sia importante quello che fanno in azienda. Quindi anche informare le persone che comandano all'interno dell'azienda, a stimolare, insegnarli a stimolare le persone nel centro del lavoro. Quello che dice, arriva lunedì, che bello, vado a trovare una serie di amici con i quali ci è venuto in mente di realizzare un bel progetto. Così dovrebbe essere. Quindi la formazione deve essere carica, carica di stimoli, carica di notizie nuove, aggiornamenti importanti e interessanti, che vengono scoprise quotidianamente, normalmente, nel trascorso dell'attività di studio degli RSPP, perché sono tenuti e obbligati a essere aggiornati. Sulle malattie professionali, sugli infortuni, sul lavoro, perché accade questo o l'altro? Come si gestisce l'emergenza? Avete visto come abbiamo avuto queste tremende notizie, terremoti, alluvioni, rischio biologico con il Covid che abbiamo ancora non superato del tutto. Dobbiamo essere motivati, perché se ci facciamo prendere dall'angoscia delle brutte notizie, siamo rovinati. Perciò, motivazione totale, aspettare e trovarsi nel posto di lavoro, colleghi e amici, piuttosto che, sono stati lunedì, devo andare a lavorare, vabbè, no, cambiare il chip e rendersene conto che siamo utili e necessari alla società e all'impresa. Quindi, la motivazione, diciamo, che la fa da padrona per alleggerire un po' il carico di questi corsi di formazione, però Wargate ha anche adottato dei format, diciamo, che aiutano un po' di più. Sì, guardate, Wargate Italia, che è un ente accreditato per la formazione e ha autorizzato anche a gestire i cosiddetti fondi interprofessionali per aiutare anche a supportare il costo, per esempio, di una formazione alle aziende. Quindi, se possono utilizzare questi corsi interprofessionali, fondamentalmente nascono per aumentare i talenti, per vedere come funziona un macchinario, per vedere come funziona una linea produttiva, come funziona la qualità, come funziona. Quindi, l'ideale sarebbe integrarlo tutto, fare buoni programmi di formazione in azienda che servano a fare crescere i laboratori e ovviamente, in conseguenza, le aziende. Wargate Italia è a vostra disposizione, è a vostro servizio, se qualche azienda, qualche laboratorio individualmente, perché ci capita spesso di ricevere persone che si vogliono formare per conto suo, anche perché vogliono intraprendere magari un'attività, sia propria o in un altro paese o addirittura all'interno della nostra regione, magari. Quindi, non abbiate nessun timore, chiamateci, noi possiamo anche vedere il curriculum, perché ovviamente, non avendo come non abbiamo, lo abbiamo spiegato l'altro programma, il libretto del cittadino, Wargate Italia, vi può certificare la formazione che avete, la controlliamo, la certifichiamo, arricchiamo il vostro curriculum vitae, in modo che vi possiate presentare con le carte in regola presso alle aziende dove volete andare a presentare la vostra candidatura. Ecco, infatti, mandavo in onda proprio questa slide a supporto di quello che ci stavi raccontando, no? parlavamo anche di alleggerire un po' il peso di questi corsi di formazione, con una proposta, un format di Wargate, quello di fare questi corsi ogni anno, cioè invece di aspettare, come dicevi anche prima, no? Non aspettate l'ultima data utile per fare i corsi di formazione, i corsi di aggiornamento, partite per tempo, per trovarvi bene, probabilmente anche questo format, no? Un po' di formazione ogni anno, invece di aspettare i due, tre, i cinque anni, e può essere utile, ovviamente, per poi avere dei crediti formativi, appunto come ci dicevi prima, per gli RSPP, ASPP, e poi tutti quelli che, insomma, ai corsi sono obbligati a partecipare. Sì, in questo momento infatti abbiamo un bellissimo programma per le figure di gestione della sicurezza, responsabili del servizio di prevenzione e protezione, adetti allo stesso servizio, datori di lavoro, perché non dimentichiamoci che nel 2022 entrano anche a formare parte loro pure della formazione obbligatoria, datori di lavoro, formatori, perché facciamo anche corsi per formatori, per i dirigenti e per i perposti, quindi questi moduli formativi che noi abbiamo voluto fare proprio a moduli, in modo che il professionista, il datore di lavoro, dirigente o il formatore, scelga che modulo le completa la propria figura, e sono molto, molto graditi, molto graditi, perché non tutti devono fare tutti i moduli e non tutti devono fare le cose che magari propone un ente formativo, perciò abbiamo fatto diversi contenuti, in modo che il professionista, ripeto, possa scegliere quello che le viene meglio, che le va di più. E non è detto che deve fare tutta la formazione con noi, la può fare anche con un altro ente o con un'altra realtà formativa, l'importante è rendersi aperti a proposte e anche a completare la formazione di queste figure, che sia una formazione vera e ricca in contenuti. E questo è importante per se stessi, ovviamente, ma anche per gli altri, per coloro che lavorano con noi, per l'azienda per cui lavoriamo, quindi, insomma, Marisa, noi andiamo avanti con questo format proprio per spiegare questi principi e per trasmetterli ai nostri telespettatori, che possono essere, come dicevi tu, datori di lavoro, dipendenti, insomma, la formazione è veramente per tutti, anche per i formatori. E anche per i formatori. Quindi io ringrazio Marisa per essere stata oggi con noi, e ovviamente ti riauguro buon San Valentino, a te e tutti i tuoi affetti. Grazie Marisa. Grazie a voi, un abbraccio a tutti. E a voi do appuntamento alla prossima puntata di Working Time. Arrivederci. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.